ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale come state e da un bel po che manco dal canale infatti mi sento tanto tanto emozionata a registrare questo video sembra la prima volta quindi ho perso un pochettino la mano perdonatemi se sarò impacciata per tutto il video comunque perché ritorno in primis per salutarvi per dirvi come state avete trascorso delle buone vacanze io invece sono rimasta a casa barricata a casa a creare come una pazza infatti perché non lo sapesse sto partecipando appunto al battle of beadsmith e quindi anche quest'anno si crea con il caldo non solo si crea con il caldo si pensano a tutte le varie cose anche per lo shooting fotografico tutti i vari dettagli quindi sono un attimino su di giri ecco a parte questo mi è arrivato un pacchettino che aspettavo da qualche giorno esattamente ha impiegato 10 giorni lavorativi arrivarmi appunto questo pacchettino che vi mostro ed eccolo qua è una nuova collaborazione non si tratta di perline e neanche di resina testiamo un nuovo hobby proviamo un nuovo hobby sul canale appunto lo testo lo testo io per voi mi ha contattato questa azienda che si chiama everyday ideals hanno una vasta scelta per quanto riguarda il diamond painting e adesso vi illustro anche cosa ho scelto dal sito ho scelto appunto due dipinti per chi non sapesse cosa fosse il diamond painting è questa tela con questo disegno un pochettino appizzicaticcia con una pellicola e sopra vanno adagiati dei diamantini sintetici per avere un effetto davvero molto luccicoso e wow di impatto quindi ho deciso di collaborare con loro e ho scelto appunto questi due dipinti vi dico che sul sito hanno una scelta davvero imbarazzante ci sono davvero tantissime tantissime pagine io ho avuto estrema difficoltà a scegliere questi due dipinti perché nel carrello ne avevo inseriti all'incirca 80 dipinti uno più bello dell'altro e ho esasperato mia sorella per aiutarmi nella scelta di questo dipinto e alla fine ne abbiamo scelti due quindi anche la sister ha collaborato per la scelta di questi due dipinti vi illustro prima il primo che è questo qui appunto io già ho curiosato già ho sbirciato allora questa è la il primo dipinto questi due uccellini che sono un amore sono graziosissimi poi questi colori sono davvero spettacolari e si presenta appunto in questo modo vedete come vi dicevo prima c'è la pellicola che si solleva ovviamente non va tolta tutta va tolta man mano che si aggiungono appunto tutti i diamantini e questa parte qui è appiccicaticcia in modo che i diamantini restano fermi su appunto alla tela questa è la leggenda con tutti i numeri con il riferimento appunto del colore infatti su ogni bustina ci sono appunto tutti i numeri sono numerati ed è estremamente facile questi sono tutti i diamantini che verranno appunto messi uno ad uno sulla tela in base al colore ed eccoli qua sono davvero molto molto carini ve li mostro anche da vicino davvero di colori molto belli anche questo celeste questo arancio sono davvero dei colori stupendi e poi in dotazione vi danno anche questa pennina che serve proprio per andare a prendere diamantino un singolo diamantino per volta la colla e questa sorta di cioccolina per andare a inserire la bustina con i diamantini questo è tutto quello che vi arriva appunto all'interno della bustina io non vedo l'ora di realizzare entrambi per poterli appendere poi in casa vi mostro anche l'altro che ho scelto eccolo qua questa anche è bellissima con la luna e il sole stesso discorso c'è sempre la leggenda qui vedete il numero e la misura appunto sono 30x40 cm davvero molto molto bello questi sono tutti i diamantini appunto in dotazione anche questi sono davvero molto molto belli come dicevo prima non vedo l'ora di sperimentare con questo nuovo hobby vi lascio anche le immagini per quanto riguarda il sito perché come vi dicevo prima ci sono davvero tantissime immagini una più bella dell'altra io ho fatto davvero estrema difficoltà a scegliere queste due ovviamente oltre all'unboxing ci sarà un altro video dove andremo a realizzare un dipinto in diamond painting insieme io vi lascio alle immagini del sito e niente un bacio ciao ecco qui il sito everydayideals.com questa è la pagina iniziale del sito e come vi dicevo vedete ha tantissima scelta ci sono appunto questi qui a tema animali con cavalli, gattini, cani oppure ci sono questi qui tipo con topolino e mini tema disney poi c'è anche marvel ci sono tema appunto natalizio, halloween, girasoli, fiori, natura, paesaggi, tramonti c'è di tutto e di più vedete qui c'è anche la sezione nuovi arrivi potete anche farli personalizzati con il diamantino tondo, il diamantino quadrato c'è anche la sezione del da 3 dollari 99 oppure a 4 dollari 99 ho anche questa sezione davvero molto interessante del paghi 1 e prendi 2 2 diamond painting davvero davvero molto interessante ve lo consiglio ovviamente tutti i link ve li metto giù nell'info box anche della sezione del prendi 1 e paghi 2 vi mostro quelli lì che ho scelto io questo appunto è quello con gli uccellini, è davvero molto carino questo sito perché poi dopo sotto nelle immagini vi illustra anche come il diamond painting all'interno di un arredamento tipo vedete, arredato in questo modo, molto semplice con il dipinto oppure mettere questo quadro vicino a una libreria è davvero molto carino e poi vi illustra cosa c'è all'interno, cosa vi inviano appunto la tela con il disegno e poi ovviamente i diamantini con le varie istruzioni vedete davvero davvero molto carino questo è il primo, questo invece è il secondo, quello con il sole e con la luna stesso discorso, ci sono le immagini con il quadro completato all'interno di un arredamento ed è davvero molto carino, infatti io andrò a mettere questo qui del sole e della luna proprio nel salone di casa dove appunto ho il divano e questo andrà ad enfatizzare e a dare luce a quella parete davvero carinissimo e poi vi illustro la sezione del paghi 1 e prendi 2 ci sono davvero tantissime immagini anche qui, come vi dicevo prima, vedete c'è anche tema religioso, ci sono draghi, tigri, l'elefante è davvero molto bello questo qui questo anche è molto carino perché in pratica il dipinto è diviso in 5 tele tutte quante ovviamente realizzate con il diamond painting davvero molto molto carini, i girasoli anche sono belli c'è anche ghizmo, carinissimo poi c'è la tigre, c'è davvero tantissima tantissima scelta io perciò ho impiegato tantissimi giorni per scegliere questi due quadri questo anche è davvero molto bello, infatti anche questo era all'interno del carrello avevo più di 80 dipinte all'interno del carrello e non sapevo cosa scegliere dall'imbarazzo della scelta, vedete ci sono anche i personaggi poi ci sono i paesaggi questo anche davvero molto bello, anche questo col drago questo col pavone anche poi a seconda di dove dovete inserire appunto qual è la stanza che volete decorare col vostro diamond painting ci sono diversi disegni anche questo molto bello con i papaveri questo anche stupendo con questa foresta davvero molto molto belli ve l'illustro scendo appunto giù e questa sezione qui del paghi uno e prendi due ci sono esattamente 25 pagine quindi potete scegliere su 25 pagine e ce ne sono, oh c'è anche Stitch, carinissimo e potete appunto scegliere quello che fa per voi vedete? questa è la pagina, andiamo a pagina 4 oh c'è anche Raperunzel è Raperunzel questa? sì sì, mi sa di sì o mi confondo la bella è la bestia che bello anche questa sirena bellissima c'è una sirena davvero tanti vi consiglio ovviamente di spulciare per bene il sito perché ce ne sono davvero tanti e vi mostro anche la sezione quella fino al 3,99$ e qui anche ce ne sono tantissimi cioè poi ogni sezione ne ha davvero tanti e poi se ci fate caso per ogni quadro c'è appunto sotto vedete, aspettatevi il ritorno a questo per ogni quadro quando aprite appunto l'inserzione di ogni quadro c'è appunto spiegato anche se i diamantini sono tondi quant'è la grandezza del quadro ci sono tutte le varie informazioni stesso discorso anche per qualsiasi inserzione anche questa col popone è davvero molto bella odio anche questa o il cagnolino carinissimo cioè ce ne sono davvero tantissime e invece in questa sezione qui del fino a 3,99$ sono esattamente 61 pagine 61 pagine pieni zeppe di diamond painting davvero molto molto belli vi consiglio di spulciare appunto il sito andare a curiosare la spedizione è velocissima come vi dicevo prima in 10 giorni lavorativi il pacco è arrivato a casa e io non vedo l'ora di realizzare ovviamente il mio diamond painting ovviamente realizzerò un video dove vi illustro man mano la realizzazione della tela non so se realizzare prima gli uccellini oppure prima il sole con la luna quindi nel frattempo che decido do un'altra occhiata al sito perché davvero oddio questa giraffa che è carina io poi le cose più pazzoidi mi piacciono anche il pinguino anche questo molto bello più carino anche questo c'è tutte le cose più buffe particolari le scelgo io ci sono anche i simpson adoro c'è spongebob però peccato che non c'è patrick c'è patrick ah patrick e spongebob uh anche i toy story niente ragazzi io vi lascio tutti i link in descrizione se volete andare appunto a curiosare sul sito di everydayideals.com io spero che questo video sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino ditemi cosa ne pensate di tutti i diamond painting se avete mai sperimentato con questo hobby se l'adorate se non l'adorate scrivetemi sotto cosa ne pensate io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi video ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti